Dove vivono i gorilla? Esistono due specie di gorilla, il gorilla occidentale e il gorilla orientale. Entrambe sono formate da due sottospecie. Il gorilla occidentale è composto dal gorilla di pianura occidentale e il gorilla di cross river, mentre il gorilla orientale è suddiviso in gorilla di pianura orientale e il gorilla di montagna. Il gorilla di pianura occidentale vive nelle foreste di Camerun, Gabon, Repubblica Centroafricana, Congo, Guinea equatoriale e Angola. Il gorilla di cross river invece occupa una piccola area sul confine tra Nigeria e Camerun. Per quanto riguarda il gorilla orientale, entrambe le sottospecie vivono in Africa orientale, nelle foreste equatoriali comprese all'interno della Repubblica Democratica del Congo, Uganda e Ruanda. Delle quattro sottospecie, sicuramente quella più famosa è quella del gorilla di montagna. E tu vorresti vedere un gorilla dal vivo? Grazie a tutti.